Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti-tappeto che sciam firmato Gotby. Questi tappeti sono annodati nel Persia centrale, sono di alta qualità e spesso hanno un motivo a medaglione su campo fiorito, ma possono esserci variazioni. Il motivo dei tappeti che sciam è usato spesso come originale per la produzione industriale di tappeti. I tappeti che sciam fanno bella mostra di sé nelle principali case reali europee. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa. 9 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.